Potente appala ragazzi, qua ho Axel, oggi mi è gato, oggi sono al sole e sono qui a presentare questo nuovo nuovo video Che ragazzi sarà il nuovo PinkPale perché come vi avevo promesso la domenica o meglio oggi che video doveva uscire doveva uscire il PinkPale Prima di iniziare però ragazzi mi volevo scusare con voi perché in questo PinkPale, in questo video non c'era la FaceCam Ebbene si ragazzi ho deciso di portare questo PinkPale senza FaceCam perché allora perché se avessi fatto la FaceCam ci avrei messo molto di più ad editarlo E dato che oggi pomeriggio ci sono le partite poi devo studiare ancora abbastanza e ho ancora il pigiamo ho detto eh no, eh no, eh no Oggi noi faremo un PinkPale senza FaceCam, tanto domani uscirà il nuovo video e ragazzi domani uscirà il nuovo video speciale dei 30.000 iscritti Che ragazzi è uscito una magicata credo e spero che per voi sia lo stesso Quindi ragazzi mi raccomando domani controllate il mio canale però vi volevo anche chiedere una cosa Ragazzi il video dura 16 minuti, secondo voi 16 minuti sono troppi? Fatemelo sapere nei commenti perché potrebbe essere un consiglio o meglio un aiuto veramente potente se possiamo così definirlo Quindi a voi andrebbe bene che io caricasse un video di 16 minuti? Scrivetelo nei commenti Comunque ragazzi oggi PinkPale di Aubameyang Secondive pagato solamente 158.000 Tipo il giorno dopo che era uscito, io volevo comprarlo quel giorno, ne costava 300, meno male che ho aspettato poi soprattutto in questi giorni Dato che è uscito, cioè ci sono i pacchetti speciali quindi tutto costa meno Questa qua la squadra, sto provando Suarez ATT con lo stile di intesa che gli sto, da Suarez 88 Che stile di intesa gli mettiamo? Io gli metterei un bel valgo Un bel valgo e ragazzi andiamo a twittare su Facebook quindi PinkPale AubameyangSecondifXboxOne Per partecipare dovete invitarmi a un gruppo bla 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 e bla Quindi adesso aspettiamo gli inviti a un gruppo però sono abbastanza un deficiente perché mi sa che li ho tolti Ho tolto la possibilità di invitarmi, andiamo a vedere Infatti, che cosa abbastanza sdrogo? No adesso dovrebbe andare tutto Dato che è domenica ed è mezzogiorno quindi un periodo abbastanza ambiguo dove c'è tipo, ci sono tipo due miei iscritti online su Xbox One Io accetterò, fai il prossimo invito, dai Una cosa abbastanza easy, via Questo Ma che cazzo What is successo? Perché non mi fa accettare l'invito? Vabbè, noi giocheremo contro Showpain, non so il motivo, non mi ha fatto accettare degli inviti o meglio Mi è andato da solo nel gruppo senza venire la solita schermata se possiamo così definirla Quindi proprio questa volta ha voluto scegliere la mia Xbox, che cosa magica Quindi andiamo ad invitare Showpain Madonna non pensavo ci fosse così tanta gente, mi state iniziando a seguire veramente in tanti Grazie mille, poi ragazzi vi volevo chiedere, beh è un favore abbastanza easy Se vedete lasciate già un bel mi piace Vediamo se arriviamo a 2000 mi piace Proprio così per andare in attesa o meglio per arrivare al video di domani Carichi, carichissimi Quindi adesso, aspettate un secondo che mi sono scordato Devo scrivere stop sulla pagina Facebook Scriviamo stop e andiamo a giocare Adesso, mentre guardiamo la squadra vi dico l'ultimissima cosa Poi si inizia innanzitutto se volete comprare Katie passate la fia con i stash Anche se ora li da finiti, quindi bisogna aspettare E secondariamente, se editerò questo video senza canzoni così È perché devo farlo abbastanza di fretta Questa qua è la sua squadra 4-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Della Barclays Premier League Forte, non è quella buggata Ora l'ultima cosa Fammi disabilitare un'opzione E poi possiamo partire allegramente Questo sta parlando ma io non lo sento bene Oddio Boom Bravo Gundogan Madonna È perfetto È ferpetto È ferpetto il lancio per Suarez Suarez che andrà di prima Metterle Madonna mia Grazie Gundogan 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 Il Pier Il magico Pier Il magico Pier Non riesce a liberarsi e andare al tiro Però De Bruin De Bruin De Bruin Aspettate che tiro la tenda Andiamo ad utilizzare lo schema che vi ho fatto vedere E dobbiamo andare Vai Suarez Madonna William Ma che schifo Dio santo Palo Ma dai Però ragazzi ve l'ho detto che è buono Perché come avete visto L'uomo che avevano fatto smarcare Si è smarcato E ha preso palo In questo caso William Che ha fellato alla grande Dai E faccia ripartire l'azione piano Madonna Bravo Vai Gundogan Vai Gundogan Pente che Va Testa melo L'ha testato L'ha testato Il magico Pier Il magico Pier 2000 di veloci Ma dai Oddio Vai Suarez Su Suarez Madonna Madonna Vai Ma perché Oddio Oddio No E no E no E no E no E no E no Orco Giuda Primo tiro che fa Fa gol Che bolle Eh ragazzi Oggi non mi sento in forma Oggi non mi sento in forma Nel senso Di giocare bene a FIFA Eh sì 0-1 per lui Bente che Bente che No io sono curioso di vedere i tiri in porta Ci provano Con questo lancio Cali No 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 Ma dai Ma che schifo Ma qua i giocatori non sono più buggati Oh Oh Dai Dai Pier Dai Pier Dai Pier Ma perché Perché sto schifo Madò Tutti i suoi Sti Casso di rimpalli Dai Dai Pier Dai Pier Bravo Ma no Ma non tira Oh dio santo Quanti difensori ha Porca vacca 2000 difensori Sì ma il suo è buggato Il suo Madonna Mi azzittisce Riesce a trovare lo spazio buono Attenzione Cross in aria Go Terra palla No Vabbè È finita 2 a 1 Mannaggia Oh Non è finita No invece Ma che cazzo No ma io non ci credo Ma stiamo Scherziamo Pensavo fosse finita Fa fallo su David Luiz Non è fallo Poi gol alla Bastard Che schifo Che schifo Che schifo I miei giocatori giocano a tirarsi i calci E ora è finita Veramente Porca vacca 3 a 1 Dai qualche volta Si sta a riperde Sai perché Cardiamo Bruce Eh Lo sapete Per imparare Per rialzarci Partita Di merda Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Maria Grazie a tutti Grazie per la visione!